Benvenuti a Pixel. La prima circoscrizione 4.0 è nata a Perugia e promette di mettere fine a code e burocrazia. Con gli uffici comunali ora si parla da casa. Questo potrebbe essere il futuro prossimo dei rapporti con la pubblica amministrazione. Un addetto in telepresenza nel suo ufficio, il cittadino in una delle sedi della circoscrizione a esporre le sue necessità. L'esperimento è stato presentato a Perugia e tra qualche mese sarà la norma. Immagini e audio ad alta definizione aiutano molto, ma attraverso l'elettronica passano anche i documenti. Scanner e stampanti permettono lo scambio delle carte, la lettura dei documenti, insomma tutto come se ci si vedesse di persona. Un sistema di video comunicazione ad altissima definizione, connettere i cittadini attraverso la tecnologia ai servizi della pubblica amministrazione. L'appuntamento si prenota attraverso una postazione in cui si fissa data e ora e poi si entra nella stanzetta dove ci aspettano i monitor, la stampante, lo scanner e tutto il resto. Insomma, un modo completamente nuovo di entrare in un ufficio comunale. Si inverte un po' quel concetto per il quale non sarà più l'azienda, l'imprenditore o il cittadino che dovrà ricarsi presso il comune, ma è l'amministrazione comunale che cerca di andare dove il cittadino lavora, opera e vive.